su twitch registrata sul mio canale youtube mi raccomando iscrivetevi al mio canale attivate la campanella e mettete pure dei commenti se avete qualche dubbio questa lezione ho appena girato un video per far capire che cos'è un sistema di equazioni cosa significa quando è indeterminato e quando è impossibile andiamo a focalizzare la nostra attenzione su sistemi a due incognite x y che chiamiamo x y poi se queste incognite invece di chiamarsi x y si chiamano alberto lucia fa bene lo stesso due incognite in due equazioni scorso video chi non l'ha visto lo invito a guardare il scorso video per dirvi che se ci sono due incognite hanno bisogno di due equazioni un'equazione sola con due incognite non è che non è risolvibile ma ci sono infinite soluzioni se mettete tre equazioni rischiano di non andare tutte e tre d'accordo quindi la situazione ideale è avere due equazioni due incognite due equazioni poi farò un altro video in cui vi farò vedere cosa succede quando avete tre incognite serviranno di norma tre equazioni allora esistono vari modi a primo grado è perché in questo vi in questi primi video spieghiamo tutto quello che succede nel primo grado poi andremo avanti approfondiremo e vedremo cosa succede quando avremo quelle fratte quando fiamo quelle di secondo grado eccetera eccetera allora in questo video vi spiego il metodo della sostituzione poi farò un altro video in cui vi faccio vedere la riduzione è un altro in cui metodo di kramer però ho già detto che il metodo di kramer l'ho già fatto anche vedere in un video in cui parlavo di matrici però lo ripeto lo stesso allora condivisione del mio schermo ok siamo qua allora oddio sono persa la lavagna tac 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 ecco allora innanzitutto volevo far presente una cosa che anche nello scorso video io ho fatto riferimento a sistemi che sono già in forma normale in forma normale cosa significa che c'è in ordine la x la y uguale termine notto diciamo ancora non so meno 2x più 3y uguale termine notto se non vi trovate in questa condizione nessuno vi vieta di fare il trasporto dei termini cioè magari in origine questo 2y si trovava qua ma si trovava da questa parte nessuno vi vieta di prenderlo toglierlo da qua cambiare il segno e metterlo da questa parte per tradizione in matematica i libri di matematica le incognite le chiamano x y x è la prima y è la seconda però nessuno vi vieta di ordinarlo in maniera diversa prima le y e poi le x meno 2y più 3x uguale a 5 3y meno 2x uguale a 1 chiaramente i sistemi un pochino più complicati che vi daranno via via gli insegnanti non sono messi subito in questa forma ma magari contengono dei prodotti notevoli delle frazioni da mettere a posto dovrete fare tutto quello che avete imparato in prima superiore per fare denominatori comuni calcoli voi magari avete un sistema che si presenta magari in apertura con un bel x meno y alla seconda meno aperta tonda x meno y che moltiplica eccetera eccetera dovete fare tutti i conti e poi ovviamente se siete all'inizio della seconda è probabile possibile auspicabile che le x alla seconda se ne vadano quel paese mettete insieme tutti i termini simili e avrete sicuramente le vostre x le vostre y uguale numero eccetera quindi ci poniamo in questa condizione che è la condizione dell'essere un sistema in forma normale allora io volutamente ho scritto un sistema dove voi vedete che davanti a ciascuna x ciascuna y c'è sempre davanti un numero diverso da 1 se per caso facciamo così in questo sistema per esempio non ci fosse questo 2 voi partite subito dal voler ricavare questa y perché perché davanti a questa y c'è un 1 e quindi i calcoli diventano tutti più semplici però mettiamoci nell'ipotesi che invece purtroppo no voi avete davanti a ogni x davanti a ogni y c'è un numero diverso da 1 allora dovete scegliervi a questo punto una vale l'altra un'incognita da ricavare da una delle due equazioni per esempio io parto da questa voglio ricavare la x dalla prima allora se io volessi ricavare la x dalla prima fate tutti i passaggi che vi hanno insegnato in prima superiore la isolate 3x uguale uguale che cosa a 5 il meno 2y finisce dall'altra parte diventa più 2y attenzione il 3 è un 3 per non è 3 più è un 3 per i fattori per mandarli dall'altra parte vanno finire a denominatore ok quindi il meno 2y va a finire di là più 2y il 3 per diventa fratto ok potevo anche scegliere di ricavare la y dalla prima allora cosa sarebbe diventato 5 meno 3x cambiavo il segno perché c'era un meno quindi diventava più 3x meno 5 tutto fratto 2 nell'altra equazione dove c'è scritto x metto questa cosa 5 allora è come cambiare un nome a me non piace più chiamarmi giorgia vado in comune e mi chiamo asdrubala tutte le volte che trovo nei miei documenti la scritta giorgia sostituisco il mio il mio vecchio nome col col nuovo nuovo nome il nuovo nome della x è 5 più 2y fratto 3 qui in mezzo cosa c'era 2 meno 2x cosa voleva dire meno 2 per x quindi meno 2 per questa cosa vi ho detto se davanti alla x non ci fosse stato il 3 le cose venivano più semplici perché non ci sarebbe stato un fratto avreste moltiplicato il meno 2 per 5 ecco facciamo per un attimo finta poi torniamo indietro che diciamo così che questo 3 non c'era ok la vostra x sarebbe stata 5 più 2y e quindi qui cosa diventava meno 2 che moltiplica 5 più 2y ok purtroppo quel 3 c'era e ce lo becchiamo ok va bene meno 2 per x meno 2 per tutta questa cosa qui allora ricapitoliamo io ho deciso di ricavare la x da questo la devo isolare la devo isolare devo tenere questo termine da solo il meno 2y finisce di là il 3 3 per diventa fratto nell'altra equazione quella che una la uso per ricavare un'incognita l'altra per sostituire al posto di questa x scrivo tutto quello che c'è siamo arrivati qua poi qui cosa c'è scritto più 3y uguale 1 allora che magia è successa che nel momento in cui voi a x sostituite il suo valore in funzione di y nell'altra equazione la x sparisce se la x sparisce diventa un'equazione in y un'equazione di primo grado io scommetto che questa equazione di primo grado se ve l'avessero data l'anno scorso in prima superiore la risolvevate senza nessun problema chiaro che se avessi deciso di ricavare la y nell'altra equazione avrei dovuto sostituire qua e mi diventava una semplice equazione in x allora qui cosa c'è un per cosa cosa si fa allora innanzitutto va bene la sostituzione è sempre meglio continuare a scrivere x che cos'è la x è 5 più 2y tutto fratto 3 ok e qui risolvo qui c'è un per cosa devo fare moltiplicare il meno 2 per il numeratore quindi diventa meno 10 meno 4y fratto 3 più 3y uguale 1 ragazzi la seconda non è un'equazione fratta è un'equazione che ha un coefficiente a denominatore per cui come si fa a togliere il denominatore si fa un bel denominatore comune che è 3 lo faccio da una parte dall'altra 3 diviso 3 fa 1 quindi rimane meno 10 meno 4y qui è come se ci fosse fratto 1 3 diviso 1 fa 3 3 per 3 fa 9 quindi più 9y uguale qui sempre come se ci fosse un 1 3 diviso 1 fa 3 3 per 1 fa 3 il denominatore essendo comune a destra a sinistra lo posso togliere perché posso immaginare di aver moltiplicato a destra a sinistra per 3 quindi cosa diventa qua diventa un bel 5y perché 9 meno 4 fa 5 e dall'altra parte questo meno 10 va portato di là diventa più 10 diventa 13 quindi la mia bella y l'ho finalmente ricavata è 13 quinti va bene facciamo un pa io però ho bisogno di sapere anche quanto è x perché vi ho detto risolvere un sistema significa sapere quanto è x e quanto è y ma ormai la y non è più un'incognita la mia y vale 13 quinti quindi la x sarà il risultato di questo calcolo 5 più 2 per 13 quinti vuol dire 26 quinti il doppio di 13 quinti e 26 quinti tutto fratto 3 lo so che gli studenti si spaventano vedere le frazioni sotto l'altra frazione però questa è la frazione principale prima facciamo questo calcolo 5 per 5 fa 25 25 più 26 fa 51 quinti fratto 3 vuol dire per un terzo 25 25 25 più 26 fa 51 3 il 51 li possiamo anche esemplificare il 3 nel 5 sta una volta con risporto di 2 17 quindi il risultato è che la x è 17 quinti y 13 quinti sui libri magari tante volte vedete scritto così vedete una parentesi con scritto 17 quinti punto e virgola 13 quinti se non avete fatto ancora geometria analitica non vi spaventate questo è come se fosse un punto che ha coordinate la x 17 quinti la y 13 quinti quel punto sarebbe in geometria analitica il punto di intersezione di queste viste come rette ok questo è il metodo della sostituzione ricavate una delle è chiaro che se io mi trovassi un sistema fatto così 2 x meno 5 y uguale a 8 e poi x più 2 x più y uguale a 2 qual è che è l'incognita che mi conviene ricavare questa qua scambio le due equazioni la prima la faccio diventare l'equazione da cui ricavo y uguale a 2 meno 2 x così non ho bisogno di fare un fratto o poi se volete complicarvi la vita e volete ricavare la x dalla prima dalla seconda o dalla prima della seconda equazione va bene va bene lo stesso però la cosa conveniente è se c'è una delle quattro incognite con davanti uno ricavate quella y uguale 2 meno 2 x andate a sostituire nell'altra 2 x meno 5 che moltiplica usate una parentesi perché la y è tutta quanta se non metto la parentesi poi rischiate di moltiplicare solo il 5 per 2 invece il 5 moltiplica tutta la y 5 per tutto il valore di y sono arrivata qua uguale a 8 la vostra equazione diventate in x 2 x meno 10 meno per meno fa più 5 per 2 10 x uguale 8 12 x uguale 18 più 10 più 8 x uguale 18 dodicesimi dividete per 6 viene 3 mezzi questo punto y che cosa è uguale la riprendete dalla prima equazione a 2 meno il doppio di tre mezzi il doppio di tre mezzi che cos'è 6 mezzi che 3 2 meno 3 fa meno 1 quindi le due soluzioni cosa sono x uguale a tre mezzi y uguale meno 1 due parole nello scorso video vi ho detto cosa significa avere un sistema impossibile indeterminato impossibile vuol dire che nessuna delle soluzioni della prima equazione è soluzione anche della seconda non c'è una soluzione comune indeterminato che tutte le soluzioni della prima sono anche soluzioni della seconda uno non se ne potrebbe accorgere ma magari la prima parte è la prima la prima parte è uguale magari mascherata perché i termini non sono proprio gli stessi ma sono gli stessi moltiplicati per 2 io magari non me ne accorgo questo sistema se ne me ne accorgessi è sicuramente impossibile perché vedete 1 2 un mezzo meno 3 meno 6 un mezzo rapporto tra le a e rapporto tra le b è sempre un mezzo la prima parte dell'equazione è identica solo che moltiplicata per 2 questa parte invece è diversa per essere identica a tutti gli effetti la seconda equazione dovrebbe avere un 8 quindi se x meno 3 y da 4 x meno 3 y non può dare 5 mezzi perché ho diviso tutto per 2 allora non me ne accorgo e faccio il metodo della sostituzione ricavo la x che diventa 4 più 3 y vado a sostituire sotto 2 per x diventa 8 più 6 y più meno 6 y uguale a 5 che equazione viene impossibile perché viene 0 uguale a meno 3 l'otto portato di là diventa meno 3 0 x 0 y anzi uguale a meno 3 è impossibile quindi non me ne posso accorgere subito il rapporto tra i coefficienti delle x è un mezzo il rapporto dei coefficienti delle y è un mezzo il rapporto dei termini notti è 5 quarti quindi a fratto a primo è uguale a b fratto b primo che però non è uguale a c fratto c primo sistema impossibile se invece di essere un 5 questo qui fosse stato davvero un 8 questo era un 8 e me ne potevo accorgere le due equazioni sono identiche la seconda equazione è la prima tutta moltiplicata per 2 cosa vi verrebbe se non ve ne accorgete 0 uguale a 0 sistema indeterminato tutte le soluzioni della prima sono soluzioni anche della seconda ok per questo video finito prossimo che vi farò è come risolvere invece che con la sostituzione con la riduzione per adesso mettete il mettete non voglio ordinarvi a nulla se vi è piaciuto questo video se ritenete che il mio lavoro è importante clic 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 campanella campanella sapete chi fa clic 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 un noto influencer dell'inter che però su cui non mi ero trovata molto io avevo tolto il like a mastrangelo perché era tutto contro contro conte infatti poi ero più stata più intelligente io perché l'inter di conte poi ha vinto lo scudetto scusate la divagazione calcistica like campanella e alla prossimo video a tutti ciao buona serata per me serata